Benvenuti cari follower, prima di entrare nei dettagli spieghiamo a tutti che questo video è molto importante e dovrebbe raggiungere il maggior numero possibile di italiani, quindi spero che tutti ci supportino con ammirazione per questo video affinché il sistema YouTube possa suggerirlo al maggior numero possibile di persone, perché la situazione si presenta forte domani, lunedì 5 giugno 2023, e c'è un'alta probabilità che le piene tornino verso l'Emilia Romagna e zone limitrofe e anche verso l'isola di Sardegna, e qualche altre aree. Pertanto, spero che tutti condividano questo video con quante più persone possibile al fine di evitare maltempo e improvvisi, quindi un avviso molto severo e urgente dal modello europeo nell'ultimo aggiornamento a per le regioni centrali d'Italia, soprattutto le zone prossime alle coste del mare Adriatico e anche l'isola di Sardegna e Sicilia, dal pericolo di torrenti e alluvioni in formazione domani, lunedì 5 giugno 2023, e ciò a causa dei forti temporali che colpiranno la regione e porteranno con enormi quantità di pioggia. Anche le regioni settentrionali sono interessate da temporali forti e anche alcune zone del sud, dunque, prudenza e prudenza sono richieste e fortemente richieste domani, lunedì, e le zone interessate dalla pioggia sono, Emilia Romagna Toscana, Marche Umbria, Abruzzo Molise e Nord Puglia, e zone separate di Campania e Basilicana, piove anche nel nord Lombardia Trento Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto e si unirà gradualmente a tardanotte con Liguria Piemonte Valle d'Aosta, e come dicevo, avvertiamo fortemente del pericolo di alluvioni in formazione in tutte le aree all'interno del cerchio rosso. In particolare nelle regioni centrali dell'Italia, estendendosi dall'Emilia Romagna fino al Molise a sud, in particolare le zone a ridosso del mare Adriatico, e ogni altra importante novità di cui vi informeremo in seguito e alla fine buona salute.